L'incidente nella serata di venerdì 26 luglio intorno alle 20 in via Merlo a Rivarolo Canavese. Un uomo è caduto al secondo piano di una palazzina impattando sui teppi dei garasci sottostanti. Avvertiti i soccorsi, sono prontamente intervenuti la croce rossa di Castellamonte, i vigili del fuoco di Rivarolo, due squadre da Ivrea e i carabinieri di Rivarolo Canavese. Complicata l'operazione di soccorso, in quanto si è dovuto provvedere dapprima a salire sui teppi di box, poi imbragare il malcapitato in sicurezza per calarlo a livello strada e poterli dare i primi soccorsi in totale sopprezza. Una volta stabilizzato, l'uomo è stato trasportato al polo di protezione civile, dove ad attenderlo c'era lì di soccorso che l'ha portato all'ospedale CTO di Torino. Grazie a tutti.